Primo fine settimana con coprifuoco posticipato alle ore 23 in Abruzzo. Coprifuoco che nelle prossime settimane e in particolare dal 7 giugno potrebbe cadere del tutto se la situazione contagio e ricoveri ospedalieri per covid migliorerà con il passaggio dell'Abruzzo dalla zona gialla a quella bianca. Lo slittamento di questa misura restrittiva dalle 22 alle 23 annunciato nei giorni scorsi dal governo con l'avallo della cabina di regia e del comitato tecnico scientifico rappresenta un segnale incoraggiante di miglioramento dell'emergenza sanitaria dovuto al covid-19 ma è anche una possibilità in più per le attività commerciali per recuperare economicamente qualcosa di quanto andato perduto durante questi lunghi mesi di chiusure. Con il coprifuoco dunque si proseguirà per gradi. Dal 7 giugno lo slittamento di un'ulteriore ora fino alla mezzanotte e poi dal 21 giugno la completa abolizione in tutta Italia sempre che in Abruzzo non si anticipi e non le aperture con la tanto agognata zona bianca dal 7 giugno dove le uniche misure in vigore sarebbero il distanziamento e l'uso della mascherina. Intanto sul fronte vaccinazioni da domani partiranno quelle di massa nei comuni abruzzesi delle aree interne con meno di 500 abitanti che in Abruzzo sono 65 distribuiti nelle quattro province. Monte Lapiano il comune più piccolo in provincia di Chieti con appena 80 abitanti e a cui dovrebbero aggiungersi tre comuni di Carpeneto Sinello, Serra Monacesca e Villa Lago che superano di poco i 500 abitanti e che pertanto non dovrebbero essere esclusi dal piano. L'obiettivo della cosiddetta vaccinazione di prossimità che sarà portata avanti anche con il contributo del personale dell'esercito e dei carabinieri messo a disposizione dalla struttura commissariale del generale Figliuolo è quello di raggiungere le piccole comunità per immunizzare i residenti dai 16 anni in su che avranno manifestato il proprio interesse alla vaccinazione. Presumibilmente si utilizzerà il siero monodose Johnson & Johnson al fine di evitare un ritorno sul posto dei team di vaccinatori per effettuare richiami previsti invece da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. La vaccinazione di prossimità, ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, oltre a limitare i disagi e i lunghi spostamenti per i residenti nei centri più remoti, consentirà di creare piccole zone covid free che assicureranno non solo la ripresa di una normale vita sociale in queste comunità ma potranno anche renderle destinazioni turistiche appetibili proprio per le garanzie di sicurezza sanitaria che tanti villeggianti oggi ricercano.